E' stato un pomeriggio caratterizzato da una bufera di vento, quello di ieri, che ha causato molti danni su tutto il territorio della provincia di Alessandria, senza per fortuna fare alcun ferito. Ad Alessandria comunque il vento fortissimo, ha sradicato un albero al quartiere Cristo, i danni maggiori però si sono verificati nel Monferrato con tegole cadute e altri alberi divelti, uno dei quali a Frassinetto ha centrato in pieno una jeep che era parcheggiata. A Casale il vento ha fatto crollare una grossa quercia che si è abbattuta sul castello nei pressi di Piazza Darmi, sgretolandone più di 10 metri. I calcinacci anche in questo caso sono piombati su un'auto in sosta. Squadre dei vigili del fuoco e polizia locale sono stati impegnati tutto il giorno per continue chiamate e solo verso sera il vento su tutta la provincia è finalmente calato, lasciando ancora temperature al di sotto della media che secondo gli esperti dovrebbero rialzarsi, ma non prima di sabato.